Si ha il coraggio di dire le cose, si ha il coraggio nel dire le cose di contribuire a modificare un corso politico degli altri e in questa fase questo è il nostro compito. Non possiamo pensare di aspettare di avere grandi percentuali per muoverci. Dobbiamo muoverci oggi sapendo che la realtà delle cose, come avrebbe detto Grazi, impone di muoverci. Questo è, mi sembra, il filo conduttore di un'iniziativa che oggi poniamo nel nesso, Grazi e autorità della politica.